Buongiorno, sono Giovanna Monti, responsabile scientifica dell'Unior NLP Research Group, il gruppo di ricerca per la linguistica computazionale dell'Università degli Studi Orientali di Napoli. Per futuro remoto abbiamo pensato di proporvi i primi risultati delle nostre ricerche per il progetto Crowd for the Environment, in cui collaboriamo fra gli altri con il CIRA, capilla del progetto, e con ExpertEye, una società attiva nel campo dell'intelligenza artificiale. La nostra iniziativa si intitola Spegni i fuochi e accendi l'intelligenza, ambiente social media come proteggere la terra dei fuochi con l'intelligenza artificiale, che si svolgerà sabato 21 novembre dalle ore 9.45. La dimostrazione focalizzata sulla terra dei fuochi e illustreremo come a partire dalle segnalazioni spontanee dei cittadini sui social media si possono fornire informazioni utili per l'individuazione dei reati ambientali agli operatori sul territorio che hanno il compito di monitorare l'ambiente ed intervenire per salvaguardarlo. Non mancate, vi aspettiamo numerosi online a futuro remoto.